Ciao, benvenuti a tutti per questo nuovo video 18 agosto 2024. Allora, silenzio, nessuno parla. E' già da un po' di tempo che sto riflettendo, mi domando qual è il mio talento, qual è la mia capacità, quali sono le cose che io so fare bene. Allora mi rende conto che a me piace sempre dare consigli, piace sostenere una persona, piace cercare di smuovere la sua anima, la sua energia. Allora, qualcuno tempo fa mi chiamò il disturbatore di coscienze, tanti mi dicevano che ero un filosofo, filosofavo. E da qualche parte è vero, dall'altra parte è un po' più complesso di ciò. Penso che ognuno di noi ha bisogno di parole giuste al momento giusto e queste parole non possono nascere da una teoria, non possono essere le stesse per tutti. E' quello che mi contraddistingue è una certa capacità a dare, a dire la cosa giusta, al momento giusto, alla persona giusta. E questo accade quando non mi viene chiesto niente di particolare. Se tu mi chiedi cosa ne penso della guerra in Palestina, non saprei cosa risponderti. Se tu mi chiedi qual è il tuo approccio educativo, già che sono anche educatore, ti dirò che non ho nessun approccio. Il mio approccio è quello del momento presente, è quello dell'intuizione, è quello dell'istinto, è quello che mi sento di dire in quel momento, in funzione di chi ho di fronte a me e soprattutto non farmi delle domande. Saper cogliere l'attimo, saper esprimere quello che senti in quel momento anche di fronte a chi ti sta di fronte, di fronte a una persona. Non ascoltare tutto quello che ti dice l'altro, ma sentire quello che ti dice nel silenzio. Si tratta di una lettura energetica, intuitiva, di quello che porta la persona che sta di fronte a me. Non è niente di scientifico, non è niente di organizzato, ma ti posso dire solo qualcosa che ti può fare bene. Così è la mia esperienza che ho acquisito in questi 14 anni di lavoro in psichiatria Non ho obiettivi quando incontro una persona. Non ho delle teorie da condividere, non ho dei metodi da dare, non ho un compito da eseguire, non ho una laurea di counselor. Non sono psicologo, non sono psicoterapeutico. Dico, certo ho fatto degli studi di pedagogia, di psicologia generale, psicologia clinica, all'università. Ma questi mi hanno aperto sicuramente le porte al lavoro che sto svolgendo in questo momento in psichiatria. E sicuramente è stato un grande apprendistato questi studi che ho fatto. Ma poi è la vita che mi ha insegnato tutto. Sono gli incontri con le persone, spesso persone che portano una grande sofferenza dentro di loro. Persone umili, persone semplici, che anche in questo momento guardano questo video. Che saluto, saluto te Petra, che trovi sempre delle belle parole, sicuramente giuste parole nei miei confronti. Grazie di cuore per essere come sei. Sono molto grato per la tua gentilezza, per la tua capacità a leggere quello che sono, quello che è il mio potenziale, quelle che sono le mie capacità. Allora Petra, un augate, passa una buona notte, una buona giornata e continua così. Continua il tuo lavoro di valorizzazione dell'essere umano, del riconoscimento, della grandezza dell'essere umano. Questo è fondamentale. E dunque prendo spunti dalle incontri, dalle persone che incontro. E tutto diventa per me insegnamento. E questo insegnamento, questo insegnamento è per me la mia più grande scuola. E quando io imparo qualcosa, come qualcuno dice, si insegna meglio quando si impara allo stesso tempo. È uno scambio tra le persone, l'educazione. Tutto nasce dall'incontro di due anime che insieme creano un fuoco meraviglioso, il fuoco eterno della vita. Allora, in futuro, nei prossimi anni, inizierò questo nuovo cammino, questa condivisione di quello che sento, di quello che sono, con quello che sente l'altro e quello che è l'altro. Trasformare la tua passione e i tuoi talenti in una professione è sicuramente un obiettivo che dobbiamo e possiamo raggiungere tutti. Questo è il mio obiettivo. Allora, sicuramente andrò avanti in questa direzione. Continuerò ad imparare giorno dopo giorno, a migliorarmi giorno dopo giorno. E poi metterò al servizio di chi lo richiede, di chi ne ha bisogno, questi insegnamenti che la vita mi ha donato. Allora, aug, una bellissima giornata, una buona notte, una buona serata e a presto. A domani per altre riflessioni. Ciao.